Allora buongiorno, buongiorno a Miglio, ho guardato in diretta la conferenza stampa di commisso sullo stadio, va bene? Io prima di iniziare a fare il mio commento, insomma a dire cosa ne penso, cosa è venuto fuori, che è molto interessante, vi invito ad iscrivervi perché domani alle ore 21 faremo una live sulla Fiorentina, faremo live Fiorentina, potrete farmi tutte le domande che volete sulla Fiorentina, calciomercato, situazione, analizziamo tutto, live Fiorentina domani alle ore 21, iscrivetevi, condividete e attivate il campanaccio, anche perché ho i marroni abbastanza girati sulla Fiorentina, quindi rischia di essere una live da non perdere, ok? Quindi mi raccomando. Prima di iniziare a dire la mia sulle cose dette in conferenza, una introduzione di modo. Io non capisco perché un inglese americano, cioè non capisco perché sia considerato bello, positivo ed educato, il fatto che un americano in Italia debba esprimersi in italiano, ok? Con rischio, come è successo oggi perché è successo, di sentire per 20-30 minuti, ah ok, alright, yes, un italiano ostentato, che è normale, oltretutto commisso l'italiano lo parla anche discretamente. Ma perché Cristo di un Dio non può esprimersi in inglese o in americano con un ceppa di traduttore a fianco? Visto che non si sta parlando di patate fritte alla posta, ma si sta parlando di stadi, di soprintendenze, di architettura, di progetti, con una terminologia anche abbastanza complessa, Non è meglio che la suddetta persona, visto che il discorso richiede una terminologia complessa, si esprime in inglese e che a fianco un bravo traduttore riporti la complessità dei termini e delle frasi usate in italiano, così da far capire bene a tutti quello che succede, quello che c'è, quello che si vuole dire? No. Io questa cosa veramente non sopporto, questo cattivo costume di pensare che una persona straniera è educata o è preparata quando in un altro paese si esprime nella lingua di quel paese. Io non lo sopporto, perché spesso purtroppo poi hai delle situazioni in cui la persona ha un lessico comprensibilmente basilare, troppo semplice e semplicistico, e non ci si ritrova a capire un'ostia. E siccome già di questa fiorentina non si capisce praticamente un'ostia, almeno queste cose cerchiamo di semplificarle. Fate parlare la gente nelle loro lingue, mettete un traduttore a fianco e donateci la complessità che certi discorsi meritano. Ok? Perché mi sono rotto i maroni di questa cosa. E succede col calcio, e succede all'università, ma fate esprimere la gente nella sua lingua e usate i traduttori. Cristo di Dio. No, uno deve fare il fenomeno e parlare trenta lingue. Ma se c'è gente che non sa neanche l'italiano in Italia, c'è gente che scrive se avrei, se potrei, stiamo per ritornando. No, dovete, devono sapere, i poliglotti, capito? Ma va a cagare, va. E non commisso, e dico chi pensa questo. Commisso è anche mezzo italiano, ma parlasse in inglese. Fatelo parlare in inglese, Cristo, e mettete un traduttore. Vabbè, a parte questo, cosa ho capito di questa conferenza? Poco. Ho capito che commisso vorrebbe un aiuto dal comune, che questo aiuto non arriva, che l'area Mercafir costa troppo, che la sua idea sarebbe quella di rimanere a Firenze, ma valuta anche quello che succede fuori, e che sostanzialmente il progetto di stadio di cui si parlava qualche mese fa ha subito, se non altro, un'interruzione. Questo ho capito io. Non è stata una conferenza molto chiara, perché le domande dei giornalisti erano, a mio avviso, molto aperte. Lui, con l'apertura semantica di queste domande, rispondeva, come vi ho detto poco fa, con dei discorsi in italiano basilare, che non riuscivano a centrare spesso il punto, e si è capito veramente poco. Io ho capito questo sostanzialmente, che ci sono dei problemi nel fare lo stadio. La cosa che mi ha colpito, e che anche una giornalista giustamente ha ripreso un po' con scetticismo, è che ho avuto in tutta la conferenza la sensazione che si dica lo stadio è come una sorta di pietra di volta della Fiorentina, o si fa lo stadio, o se no non c'è modo di andare avanti. Io sono il primo a dire che lo stadio è fondamentale farlo, e che purtroppo in Italia siamo in ritardo sulla burocrazia, sulle infrastrutture, sulla politica del fare stadio. È da anni che lo dico e ve lo dico. Ma giustamente, come ha detto questa giornalista qui, non è che tutto passa dallo stadio. Ha fatto giustamente l'esempio di società come Lazio e Atalanta, che pure adesso ha fatto lo stadio, ma fino a qualche mese fa non ce l'aveva, che hanno lavorato benissimo e hanno avuto una crescita poderosa dei propri progetti sportivi senza averlo stadio, comprando giocatori a poco con un settore tecnico capacissimo, che comprava gente a poco, la rivendeva e crescendo progressivamente come hanno fatto. Quello che vi ho sempre consigliato e detto quest'estate, che purtroppo noi non avendo né un progetto, né purtroppo un board di tecnici capaci di fare questo, non stiamo facendo. Hai voglia a te a costruire stadio? Oltretutto lo stadio certo ti dà una grossa entratura a livello economico, ma per esempio oggi è iniziata la conferenza, si è parlato di fatturati, si è parlato, si è fatta la lista delle 20 squadre europee con il fatturato più alto, c'era anche il Newcastle, la Juve era un dicegia, mi ha stupito il Newcastle, ma vabbè non importa, mi pare che abbia tanti tifosi però, e giustamente si è detto la Fiorentina ha un fatturato molto inferiore rispetto a questo. Si parlava di fatturato, ci fosse stato un giornalista che si fosse alzato in piedi e chiedere, visto che si parla di fatturato, possiamo chiarire una volta per tutte quanto è stata la sponsorizzazione della Mediacom nella Fiorentina? Nessuno. Si è stati vaghi su qualsiasi tipo di cifra, anche sulla cifra stanziata sul mercato, il famoso tesoretto, dopo parliamo sul mercato, perché c'è da ridere, ma non si sono fatte nessun tipo di, come si può dire, di cifra precisa, non si è sorvolato il discorso sulla sponsorizzazione media, come via dicendo. Sostanzialmente i problemi giusti e presenti che Commisso e Barone hanno elencato, sono gli stessi problemi che hanno elencato i della Valle, che quando parlavano di fatturato, di burocrazia, di necessità di crescita, venivano perculati dicendo che erano dei, come si può dire, che avevano le bracine corte, che non volevano spendere, che non volevano bene la squadra. Lui lo dice questo, è tutto normale. La scoperta dell'acqua calda serviva, Commisso, per scoprire l'acqua calda. Però a me restano due cose importanti che mi vengono da dire. Cioè, ho sentito per diversi momenti il fatto di dire sempre paragoni con l'America, sempre questi paragoni con l'America, in America lo stadio di tot squadra di baseball è stato fatto con l'aiuto di tot comune, e in America l'MLS fa schifo però gli stadi si sono costruiti, e in America è tutto più veloce, in America è tutto fast, fast, fast. Allora, due sono le cose da dire a fronte di sto discorso. La prima, l'Italia non è l'America, ma banalmente una cosa come il patto di stabilità, che purtroppo o per fortuna, a seconda delle visioni, ancora c'è, vista la nostra situazione economica a livello di paese devastante, fa sì che i comuni non abbiano milioni da buttare a pioggia su chi vuole fare infrastrutture sul comune, volenti o nolenti, non ci sono neanche i soldi per dare la benzina praticamente alla polizia locale o per pitturare le strisce pedonali, dubito che i comuni italiani siano così munifici come in America, l'Italia non è l'America, ok? Purtroppo o per fortuna. E seconda cosa, un imprenditore che viene ad investire in Italia prima di mettere i boots on the ground, come si dice negli Stati Uniti, non tasta un po' la situazione, cioè non capisce che l'Italia non è l'America? Cioè, ho sentito molte volte dire, Comiso l'ha detto chiaramente, sono deluso. Ma uno è deluso quando ha delle aspettative, o meglio, quando ha delle aspettative diverse da quella che è poi la realtà. Cioè, non so se veramente questi si aspettavano che l'Italia fosse l'America o che i comuni fossero munifici che venissero incontro, ma la situazione difficile dei comuni italiani, cioè non è che nasce oggi, la conosciamo da tempo, e poi vi dico anche, non è mica un automatismo che un comune intervenga con grosse agevolazioni o con aiuti nel costruire uno stadio che poi rimane proprietà di una società privata. Perché uno che non segue il calcio, che abita a Firenze, può anche dirti benissimo, ma che discorsi sono? Che soldi delle tasse o risparmi vanno nella costruzione dello stadio della Fiorentina che è di una società privata? Cioè, il comune, l'istituzione comunale, anche a livello economico, certo può aiutare con degli investimenti, può aiutare con degli interventi a beneficio del privato, però non è che sempre il pubblico che aiuta il privato sia un qualcosa che va bene a priori. Bisogna valutare le risorse del pubblico, quanti soldi ha il comune, in che modo può farlo, in che modo può intervenire. Perché, ripeto, stiamo comunque parlando di una società come la Fiorentina che è privata, non è un automatismo, cioè non c'è scritto da nessuna parte. Certo, se il comune lo fa, bene, è un merito al comune, ma non è scontato. E qui invece sembra che si sia scambiata l'Italia, specie di questi tempi, poi di Magra. Evidentemente si è scambiata, per certi versi, secondo me, l'Italia con l'America. E poi vi dico altre cose. Questo è il nodo fondamentale che, secondo me, molti tifosi si stanno chiedendo. Ha detto Commisso che, secondo lui, i 22-20 milioni di rilevazione, tra virgolette, per l'area Merkel, in cui costruire lo stadio, sono tanti. Io non giudico, lui avrà le sue ragioni, come vi ho detto in qualche video fa, per dire che sono tanti. Sicuramente avrà le sue ragioni. Ma per un tycoon, come è stato detto, come è stato definito, tra gli uomini più ricchi al mondo, come fanno 20-22 milioni per il rilevamento di un terreno essere un problema. Stiamo parlando di, se non ci fosse il fair play, staremo parlando del costo del cartellino di un giocatore di medio valore ad oggi, per le zone europee, tra virgolette. Questo mi fa capire, personalmente, che i 22 milioni sono troppi, paragonati al fatturato della Fiorentina. Quindi dietro c'è comunque una logica strettamente aziendale, che ti fa investire solo laddove c'è un ritorno che può essere veramente importante. Ok? Siamo ben lontani dall'idea del commisso che fa qualcosa per la città, secondo me, dal commisso che butta il cuore oltre l'ostacolo, dal commisso come Babbo Natale che regala a destra manca. Stiamo parlando del fatto che per un commisso 22 milioni per rivelare un terreno sono troppi, con tutte le conseguenze del caso. È sottile il discorso, ma vi invito a riflettere. Può pure aver ragione che sono troppi nella valutazione tecnica, ma 22 milioni per commisso sono troppi? A voi torna sta cosa? Non lo so. Non so se sia... perché si fanno tanti problemi, tutta la conferenza è ruotata attorno al discorso che il comune non aiuta, che finché il comune non aiuta è difficile fare, che serve un aiuto da parte di Firenze per la Fiorentina, che non è il momento giusto per comprare il Franchi. Io ho capito questo. Poi tutto con toni abbastanza molto vaghi, si è parlato anche della possibilità di andare fuori da Firenze, ma anche della possibilità di avere lo stadio che c'è già in concessione. C'è molto vaghi, termini e discorsi molto vaghi, anche per colpa, vi ripeto, della terminologia che c'è, che è stata assolutamente non aiutata dalla mancanza di un traduttore, ma tutto è ruotato attorno al discorso che servirebbe un aiuto da parte di Firenze e la Fiorentina anche nel fare lo stadio e che 20 milioni sono troppi. Ma allora, scusate un attimo, io mi chiedo, ma non c'è un giornalista che gli dica, ma scusate, ma dopo che si dice che i soldi non sono problemi e che per mesi si parla di fest fest fest, come mai 20 milioni sono troppi per un terreno del genere? Cioè, uno che mi continua a dire per mesi che bisogna andare fest fest fest, i soldi non sono un problema, uno che viene dipinto come uno degli uomini più ricchi al mondo come in effetti è. Perché si ferma davanti a 20-22 milioni per il terreno? È un coso, è uno scoglio così insormontabile? Cioè, viste le disponibilità di commisso, è uno scoglio così insormontabile? Non lo so. Poi vabbè Barone, che anche lui intervenuto con la solita retorica sui tifosi che ci sono, noi stiamo dietro, ogni volta va citata sta cosa dei tifosi. Quando in realtà molta gente si sta, c'è molto più scetticismo di quanto ce ne fosse quest'estate, ed è palpabile, ed è veramente palpabile. Poi una cosa che mi ha stupito anche è quando si è parlato dello stadio di Bologna e commisso vagamente ha detto eh ma non so perché a Bologna si possono buttare giù le curve e qua no. E un giornalista giustamente gli ha fatto notare perché a Firenze ci sono parti dello stadio che sono considerate tra virgolette dei capolavori architettonici perché mi pare che ci siano delle sezioni che risalgono all'architettura fascista. E lui ha detto eh ma è comunque sotto la stessa soprintendenza perché non si fa? E il giornalista gli ha detto ma è vero che anche lo stadio di Bologna è sotto in certe parti sotto la soprintendenza dei beni delle belle arti perché anche quello è architettura fascista. Però le parti che riguardano lo stadio di Firenze sono molto più preziose di quelle di Bologna. È come paragonare una intonacatura ad un quadro di Michelangelo che ha fatto l'esempio. Ah pensiero! Cioè si fa fatica anche a capire se si è capita la differenza di valore tra gli impedimenti che ci sono a Bologna e quelli che ci sono alla Fiorentina. Io vi ripeto non ho sentito scadenze precise, toni vaghi, terminologia abbastanza vaga. Ho solo capito che ci sono degli impedimenti per fare sto benedetto stadio, che 20 milioni sono considerati troppi da commisso, che si aspetterebbe una mano dal comune. Ha detto anche cose giuste per quel che riguarda il movimento calcio delle squadre che dovrebbero unirsi per fare i propri interessi, per cercare di avere un ritorno in termini di infrastrutture e magari con leggi comuni, con una sorta di lobbying tra società per avere una legge comune o comunque un'agevolazione burocratica per fare gli stadi, ma per il resto tutto abbastanza vago. E poi vi ripeto, la questione principale che poi molti tifosi secondo me si chiedono è quella. Cioè per commisso 20-22 milioni sono troppi. Può pure aver ragione, ma questo comporta un sacco di cose. 20-22 milioni, cioè non è che stiamo parlando del fatto che il comune per i terreni ha chiesto, non lo so, 500 milioni di euro. Sono 20-22 milioni. Può anche essere una cifra alta, però uno che a casa mia dice fest 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 i soldi non sono un problema, abbiamo questo, abbiamo quello. 20-22 milioni non mi pare una cosa insormontabile o sbaglio o tralascio qualcosa. Lo chiedo a voi. Sul mercato cosa dire? Anche lì vaghezza totale. Stiamo lavorando, stiamo lavorando, stiamo lavorando, stiamo lavorando, stiamo seguendo dei nomi, Prada è in giro, ma non vi dico cifre precise. Sì, probabilmente arrivano due o tre rinforzi in due o tre settimane e stiamo cercando giocatore. Vaghezza. Devo riassumere questa conferenza in una parola? Vaghezza. 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 Ennesima. Vaghezza. Un caro saluto. Ditemi la vostra.